L'appello è di evitare degli incontri con moltissime persone per festeggiare l'anno nuovo e perché poi ne pagheremo le conseguenze tutti quanti. Speriamo che la gente che sa che non può scendere in piazza non faccia diventare piazza le proprie abitazioni. L'invito del professor Paolo Fazzi, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Virologia e Microbiologia dell'ASL di Pescara. Nella sera di San Silvestro, saltati i concerti in piazza, ci si ritrova nelle case per il tradizionale cenone di fine anno con regole basilari da rispettare, mascherine e distanziamento in due parole buonsenso. Il professor Fazzi fa poi il punto della situazione del Covid in Abruzzo, pensando anche al futuro. La situazione è questa. Abbiamo avuto un numero elevato di casi, legato anche al fatto che fra di essi vi è un numero congolo di casi ottenuti con i sistemi antigenici, che prima invece non venivano computati perché si doveva fare il test di controllo in RT-PCR, quindi in molecolare. Adesso si è deciso, anche per non ingolfare sia gli hub che eseguono i vaccini e anche i tamponi, sia noi, gente dei laboratori che siamo operati di lavoro per quanto riguarda l'esecuzione dei tamponi stessi, di considerare come positivi senza conferma questi soggetti che sono risultati positivi appunto agli antigenici. Variante Delta e variante Omicron, questo incrocio può favorire l'ospedalizzazione? Allora, c'è da dire una cosa. Su Omicron sappiamo qualcosa in più, ma non sappiamo bene ancora come agisce quando va ad infettare l'ospedale umano. Molto probabilmente sembrerebbe essere più infettante di Delta, però molto probabilmente sembra che dia un numero di casi positivi inferiori a Delta e soprattutto questi casi risultati positivi più difficilmente hanno un escalation verso un'infezione grave. probabilmente ci troveremo a fine gennaio, inizio febbraio, con un aumento importante di Omicron e forse per quella data Omicron riuscirà a scalzare Delta. Non posso non farle questa domanda e molti ci chiedono sì, ma come è possibile che nonostante i vaccini i casi aumentino così a dismisura? I casi stanno aumentando per quello che dicevo prima, perché qui da noi è ancora prevalente Delta che è una variante comunque performante, nel senso che è altamente trasmissibile. Adesso sta entrando pure Omicron, che è ancora più trasmissibile perché fa freddo, perché soprattutto voglio ribadire che molti di noi vaccinati non hanno avuto un comportamento congruo e quindi hanno fatto circolare il virus. Il virus lo fai circolare se non tieni la mascherina, insomma, ecco, la mascherina va tenuta soprattutto nei luoghi di lavoro e nei mezzi di trasporto. L'Abruzzo rimarrà in zona bianca, siamo al limite, vero? Io me lo auguro e dobbiamo fare tutto un piccolo sforzo, piccolo grande sforzo, a cominciare da stanotte, che è la notte di San Silvestro. Se ci comportiamo bene faremo mantenere la nostra regione in zona bianca e speriamo che ciò sia vero.